...giudizio con abisaglie come questa, ma Piotti non interverrà più, segno che i viola questo giudizio l'avevano perduto. E con esso la partita. Guardate pure Icardi, di taglio sudamericano, far la festa al povero Galli. Scade appunto il novantesimo ed è 2-2. Non è apparso, turbato, ha continuato ad amministrare la palla, frenando l'avversario con sapienti riduzioni di ritmo ed in questa maniera è giunto anche al gol, ad 11 minuti dal termine. Virdis ha Detley, che ha giocato nonostante la febbre, velo per Wilkins, che ha fatto proseguire Icardi, che non ha avuto difficoltà a battere Pellicano. Rivediamo il gol da altra angolazione. Il gol dell'1-1. Presidente Loverde, lei rischia di passare la storia come il Presidente che ha parlato di tutto, tranne che di calcio. La partita, com'è andata? Non per colpa mia. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.